eccoci stiamo decollando dietro ci sta un ponte di Vasco da Gama eh beh si ci siamo decisamente alzando ciao guarda le persone sono tutto piccole ecco questa è una dimensione eh siamo un po' altini infatti oh scusate dai basta sennò qua c'è pure aspetta sei troppo vicino sei ancora troppo vicino però va bene fa un po' caldo qua dentro però si tanto eccolo lì l'acquario dove dovremmo andare eccolo la quello con le impalcature dovrebbe essere quello saluta i gentili amici a casa ciao 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 ciao